Buonasera a tutti, intuisco che siete tanti, anche se la luce non mi permette, se non astento, di vedere queste teste pensanti che hanno anche quest'anno accettato la proposta dell'incontro di filosofia del meeting, che come sapete, o come vedrete se siete qui per la prima volta, è un incontro un po' atipico perché non è una tavola rotonda in cui ciascuno esprima la sua posizione all'interno di un quadro precostituito, ma è un momento di lavoro e quindi è un momento in cui può, mi auguro, accadere qualcosa anche da questa parte del tavolo, sentendosi, interloquendo, dialogando, approfondendo alcune questioni, partendo dall'esperienza, dalla pratica che la filosofia fa, dei temi che di anno in anno sono messi appunto a fuoco già dal titolo del meeting. A dire il vero, la tematica di quest'anno è una tematica che in qualche modo ci invita a nozze, perché la mancanza è uno di quei fenomeni, come li chiamerei felicemente ambigui dell'esperienza umana, perché sono indice, traccia di dimensioni diverse e quindi si tratta di capire innanzitutto con che cosa abbiamo a che fare. Abbiamo due persone molto esperte nella pratica filosofica che passo a salutare, sapete già chi sono, innanzitutto alla mia destra Carlo Sini. Carlo Sini è Carlo Sini, nel senso che è non solo un professore, ma un protagonista della scena filosofica italiana, molto noto anche al grande pubblico, che ha insegnato per oltre 30 anni filosofia teoretica alla statale di Milano, è accademico dei lincei e ha tenuto in diverse parti del mondo corsi, seminari e conferenze, ma mi piace appunto ricordare che da qualche anno presso l'editoriale Iacabuc è in corso di pubblicazione la sua opera, omnia e sono già a cura di Florinda Cambria, sono già apparsi transito verità, spinose dell'archivio del sapere, il foglio mondo e il pensiero delle pratiche. Il secondo nostro compagno di cammino è Eugenio Mazzarella. Eugenio Mazzarella, dimenticavo di dire che Carlo Sini era stato, alla fine degli anni 90 e i primi del decennio successivo, già due volte ospite del meeting e, anche se a distanza, ma ci torna ancora una volta come gratitissimo ospite. E Eugenio Mazzarella, almeno per chi negli ultimi anni ha seguito gli incontri di filosofia, è un compagno di cammino in questo nostro approfondimento filosofico. Ricordo che insegna, è ordinario di teoretica all'Università Federico II di Napoli, che è stato preso di facoltà, ha fatto anche un'esperienza come deputato al Parlamento, è studioso soprattutto di Heidegger e di Nietzsche e dei problemi dell'antropologia tra natura e tecnica. E da ultimo, e questo mi piace ricordarlo, essendo egli anche frequentatore della poesia. Si può dire così, poeta, ma come i filosofi a volte sanno essere, con una particolare acutezza. È da poco uscito un libro intitolato Anima Madre, che è interessante perché sono delle poesie di Eugenio Mazzarella alternate con delle straordinarie foto di Mimmo dice. Ma entriamo subito, appunto faremo un dialogo su questi temi. Partiamo dalla prima questione che vorrei porre ai nostri amici. Anzitutto proviamo a mettere a fuoco che cosa possa significare l'uomo come un essere di mancanza, che sin dall'inizio sa di poter venire meno, cioè sa della sua finitezza estrema. Questa evidenza è quasi una necessità, la nostra mortalità, ma è una necessità che si fa virtù e diviene una risorsa antropologica. Una risorsa innanzitutto nel senso che il limite dello spazio e del tempo che segna ogni essere umano, prima ancora del richiamo al suo dover finire, è il segno che è nato, della sua nascita, della sua provenienza da altro, del suo essere in rapporto e come rapporto con altro. Questo, mi sembra, permette di concepire la vita dell'essere umano, sia come specie che come singolo, come una ricerca continua di un ritorno alle sue fonti, cioè all'alterità con cui ciascuno di noi sta ontologicamente in rapporto. Le sue sorgenti naturali, cioè il rapporto con la natura fisica, le sue sorgenti umane, il rapporto con gli altri uomini. divine, il sentimento di essere parte di un tutto sensato e di essere il polo di un dialogo con l'origine del senso e del mondo. Allora, ciò che vi chiederei in questo quadro è, tenendo conto delle vostre scelte teoriche e delle vostre preferenze, delle vostre pratiche di pensiero, come avete cercato di pensare e di assumere questa condizione finita dell'uomo che potremmo descrivere come uno spazio di senso o un evento di significato che è insieme sempre e in tensione un essere per la morte e un essere nati. Carlo Sini. Sì, io sento nelle parole molto belle che hanno introdotto questo dialogo un riferimento palese, esplicito, a uno dei due testi che secondo me devono essere evocati, poi ce ne sono altri naturalmente, uno dei due testi fondamentali che secondo me devono essere evocati quando il tema è la mancanza e il primo di questi due testi è certamente Essere Tempo di Heidegger, mi pare che Costantino Esposito lo abbia quasi citato in certi punti, e in particolare io ricorderei il fondamentale paragrafo 58, quello nel quale si ragiona da parte di Heidegger della chiamata e dell'essere in colpa, dell'essere in colpa e del debito, diciamo così. La lettura heideggeriana è una lettura della finitudine, mi pare sia stato detto molto bene, ma in che senso finitudine? Ecco, cerco di dirlo in due battute, senza tradire troppo la complessità del ragionamento di Heidegger in quel paragrafo, finitudine nel senso che l'infinita domanda dell'origine non ha risposta, questo non va trascurato, l'infinita domanda dell'origine è infinita perché non ha risposta, è rispetto a questa finitudine che si proietta all'infinito, perché ogni risposta del donde e del verso dove è appunto una risposta finita, non infinita. La colpa e il debito nascono di qui, dalla consapevolezza che ogni risposta è essa stessa in questione, è essa stessa motivo di domanda, motivo di inquietudine e di fronte a questa gettatezza, dice appunto Heidegger, no? Di fronte al fatto di essere gettati nell'esistenza senza conoscere il donde e senza poterlo conoscere, poiché la conoscenza è interna alla gettatezza e sono posizioni forti queste, no? Di Heidegger, questa consapevolezza di una gettatezza di cui noi possiamo vivere la domanda, la ricerca, l'ansia, l'angoscia, ma alla quale certamente non si darà risposta, ecco, la certezza di questo sta nella visione della morte, poiché la morte, come il ladro famoso che viene di notte, eccetera, cancellerà l'ansia di ricerca senza aver dato una risposta. E allora siamo di fronte ai due fondamentali debiti della vita umana, debito verso l'origine che è continuamente rinviata in una ricerca, debito verso la morte, perché la morte troncherà la ricerca senza avere dato una risposta. Siamo disponibili a questo? Siamo consoni con questa domanda? Allora la questione della finitudine, mi pare di capire, leggendo Heidegger, è molto complessa, molto complessa, e anche l'ansia di infinito, poiché essa non può essere incontrata, direi così, no? Non può essere sperimentata dall'essere umano, religioso, non religioso, voi capite, qui vogliamo molto alto, eh? Non è questione di religioso o non religioso. La questione della finitudine e dell'infinito è come dire si agganciano, no? Sono una intrinsecamente connessa all'altra e c'è un infinito per questa finitudine della domanda e per questa finitudine dello smacco, come dice Heidegger, poiché moriremo senza saperlo. Ma non per, come dire, il destino baro, così, no c'è qualcosa di più, perché la domanda stessa è malposta, capite? La domanda stessa, l'ansia di una risposta, come se qualche d'uno potesse rispondere con la parola umana alla domanda umana. Questa assurdità, questo paradosso è la colpa originaria della ricerca, è la finitudine, il debito originario del senso dell'esistenza, di un senso che si rilancia nella sua paradossalità, nell'essere circondato dal nulla, dice pure Heidegger in quella paragrafo, dell'essere, di avere il nulla come fondamento, il nulla come destino. Poi, come Heidegger se la mette, non vorrei ricordarlo qui, non ci interessa, a me interessa suscitare, ecco, la questione, di suscitare la questione nella sua serietà e non nella sua facilità ideologica alla quale si potrebbe essere indotti, ma allora questo vuol dire che noi che siamo qui a rappresentare la filosofia non facciamo il nostro mestiere. Mi fermerei qui, dopo c'è anche Nietzsche, ma lo lasciamo per dopo. Eugenio Mazzarella. Io approccierei il tema da una definizione di Hegel che mi sembra assolutamente pregnante per intendere il carattere di mancanza della natura dell'uomo, l'individuazione della sua natura come essere di mancanza, come aver da essere il suo essere. Una definizione topica. L'essenza dell'uomo è di non avere essenza. In questa definizione l'uomo è posto dal suo stesso sapere, dal sapere che lo costituisce, che è il sapere della sua mortalità, che più che essere diviene. Il sapere in questa definizione è posto a una vita che è costretta a darsi un senso e ad agire, è costretta a prendersi addosso la vita in cui è stata gettata. Quel che gli è se lo deve conquistare ad ogni passo, se vuole continuare ad esserlo. È una consapevolezza fondativa della condizione umana e quindi, prima ancora che Hegel, qui mi rifaccio, e di Heidegger che ha ricordato Carlosini, in realtà è una consapevolezza con cui il sapere, che poi è diventata anche tecnicamente la filosofia, come sapere della vita, lavora da sempre. Questa prossimità concettuale tra un sapere di sé che si cerca nella filosofia e nella vita è del tutto scoperto, nello stesso torno di tempo hegeliano, nell'organicismo romantico di Herder, con una definizione che ha fatto scuola e che richiamo perché poi è stata molto ripresa nella grande antropologia filosofica del Novecento. Cioè l'uomo è l'essere manchevole che non più macchina indefettibile nelle mani della natura diviene scopo a sé medesimo e meta della propria elaborazione. Non è affatto sorprendente la risonanza di una definizione di questo tipo, di questo saperi negativo dell'uomo nei saperi positivi del Novecento, nelle tesi, ad esempio, antropologici, ovviamente, nelle tesi di un anatomista come Lewis Bolk, per il quale la no specializzazione della dotazione organica dell'uomo è un fatto originario e non un tardo risultato dell'adattamento oppure dell'addomesticamento dell'uomo, come ancora ad esempio riteneva Lorenz. Oppure questa definizione risuona nelle tesi di un biologo come Adolf Portman, che fa nascere una definizione strutturale dell'uomo, parto prematuro normalizzato dalle deficienze della sua morfologia, cioè dalla mancanza di organi d'attacco, di specializzazione alla fuga, di istinti genuini e dal bisogno di protezione, dal bisogno di maternage incomparabilmente protetto nel tempo rispetto a tutti i mammiferi superiori. L'antinaturalità dell'uomo, che è all'origine per lui del bisogno della cultura, è nella sua genesi dunque ancorata alla mancanza di adattamento di questa specie che noi siamo. Si potrebbe anche dire però che l'adattamento naturale dell'uomo poggia proprio sulla sua cultura, è la sua cultura, che in fondo la sua natura, la sua naturalità, è proprio la sua antinaturalità, la cultura come il conflitto che lo regge nel mezzo della natura. Un reggimento nel mezzo della natura, un rapporto che insieme di dipendenza ma anche di opposizione è saputo alla natura. E questa situazione conflittiva fondamentalmente è la sua propria natura, la sua propria essenza. Come integrazione di natura e cultura, che è questo conflitto storico nella natura, dove ogni volta si deve determinare il punto a rischio di equilibrio tra uomo e natura e tra natura e cultura nell'uomo stesso, l'uomo è un progetto complessivo della natura, come suona un'altra famosa definizione di Arnold Gehlen, l'uomo e il suo posto nel mondo. Credo che in questa definizione di Gehlen, l'uomo progetto complessivo della natura, come dire, la definizione speculativa di Hegel esibisca nell'antropologia del Novecento il suo contenuto concreto. Come progetto complessivo strutturalmente manchevole, l'uomo è costretto a farsi cultura, cioè a prendere posizione nel mondo contro il mondo per difendere il suo mondo. In quanto tale l'uomo è l'essere che agisce. Anche qui è Gehlen che lo definisce questo testo che è uno snodo dell'antropologia del Novecento. Ma in fondo con questa specificazione nel concreto, Gehlen risponde a modo suo, in linea con l'età della tecnica a cui Heidegger ha dedicato riflessioni fondamentali, a una domanda che era di Goethe nel Faust, su che cosa sia all'inizio. Già Goethe rispondeva, si rispondeva che all'inizio non era lo spirito, in realtà è una ripresa mimetica nel Faust, nella scena dello studio del Vangelo di Giovanni, ma è che in realtà all'inizio non era lo spirito, all'inizio era l'azione. Concretamente nella sua antropologia e a partire da sapere i positivi, Gehlen specifica che lo spirito è azione e questo è all'inizio, è l'integrazione originaria di anima e corpo, di natura e spirito testimoniata nell'esteriorità. In questa soluzione geleniana però, così in debito all'anima faustiana del moderno, c'è un debito rimosso dell'essere di mancanza che iniziamo. La rimozione della domanda inevasa e forse inevitabile che richiamava alla luce di Heidegger e Carlosini, c'è la forza di un impensato proprio del moderno, un non più pensato dell'uomo dell'immanenza, ma è una rimozione che non tiene, perché nello psichismo umano, dove la vita è gettata a trovare nel desiderio di sé i motivi, la pienezza di un senso, che il suo sapere gli toglie nell'esperienza della morte, all'inizio non è l'azione. O meglio, la prima azione non è un'azione fisica, non è fisica, la ricerca c'è di un'omeostasi sostenibile tra sé e il proprio ambiente. Questo lo fa ogni vita, ogni forma di vita che giunga all'individuazione, a essere individuo nel suo ambiente. La prima azione è un'azione psichica, un'integrazione di senso al vuoto di sé scoperto, alla vita che si sa, mentre si riempie di cose, di rapporti, di relazioni e vivendo non di meno si svuota di sé, viene a mancare a sé. Obbligata a ricavare dalla vita l'esperienza della morte, in altri termini, prima che immaginazione produttiva di mezzi al suo tenersi in vita, tecne, la conoscenza, la condizione umana e immaginazione speculativa, immaginazione speculativa di un senso, un filo e una direzione alla vita, è religio, per usare il termine tecnico se volete, il termine filosofico. La prima prestazione veramente umana non è una prestazione fisica che maneggi la fiusis, questo lo fa anche un castoro che costruisce una diga, un uccello che fa il nido o una scimmia che usi una pietra scheggiata per rompere una noce. La prima prestazione veramente umana non è una mecanè tecnica, mecanè è il termine che significa astuzia, da cui meccanico, non è una mecanè tecnica, un'astuzia che aggiusti a proprio vantaggio il rapporto con l'ambiente naturale, ma una prestazione tutta endopsichica, una prestazione psichica superiore che nessuno psichismo animale conosce. L'invenzione di un senso alla propria vita e a tutte le sue astuzie, che è poi il motivo per cui la tecnogenesi non risolve in sé e non la può risolvere l'antropogenesi. E ogni antropologia della tecnica che oggi si illude di poter tirare fuori dalla tecnica senso e destinazione dell'uomo è votata al fallimento, perché non sa neanche di che cosa sta parlando. Perché solo in un ambiente di senso, vita che è legame e cerca legami, che quella fatica, anche la fatica del tetanismo della tecnoscienza, trova un sostegno al suo sforzo. Senza il sostegno di questa compensazione religiosa al disagio della cultura che noi siamo come iato nella natura, in definitiva la speranza che da sé al fondo del suo vaso come vita che conosce non dimene vita ma si svuota mentre vive, ancora sorgerà nuova vita a cui tendere se non per me, almeno per chi come me viene da me, non ci sarebbe vita come la conosciamo, non ci sarebbe l'uomo e la sua speranza. Speranza che è custodita in un grembo di relazioni da cui si viene al mondo e in una rete di rapporto in cui solo la vita può restare presso di sé. È una cognizione emotiva neanche da dimostrare se lo ascoltiamo il nostro cuore che ce la mette ogni giorno sotto gli occhi della ragione, perché si può vivere senza sapere perché. È molto più difficile vivere senza sapere per chi. Finirei dicendo che la mancanza, se la intendiamo così, se la riempi di senso ti medica, se la lasci vuota ti ferisce. Qui vale vecchio detto che la lancia che ti ferisce è la stessa che ti guarisce. Bene, siamo entrati dentro il tema. Mi sembra che sia venute fuori almeno tre parole che mi piacerebbe mettere a fuoco prima di procedere. Secondo la ricostruzione di Carlosini, il fatto che l'uomo sia assegnato inevitabilmente da una mancanza sta a significare, in questo compagno del grande Heidegger, che l'uomo è l'essere che domanda, che domanda infinitamente o dell'infinito. Sebbene la condizione ontologica strutturale dell'uomo, che appunto per questo è essere per la morte, non semplicemente perché biologicamente muore, è che a questa domanda che c'è non è possibile una risposta. E quindi c'è questa tensione irrisolta che segna appunto il cerchio del nostro stare al mondo e della nostra finitezza in maniera assoluta, cioè senza rapporto con un'origine. L'origine, diceva Sini, non può dirsi con una parola umana. A questa domanda non ci può essere risposta con una parola umana. Mazzarella sottolineava che invece l'uomo come essere di mancanza è un essere che agisce, ma che questa azione non è appunto semplicemente un'azione di tipo naturale o meccanica, ma è psichica. Cioè un'invenzione, c'è una ricerca, è un ritrovamento del senso. Quindi nel primo caso appunto la mancanza dice una domanda impossibile, che c'è ma la cui risposta è impossibile. Nel secondo caso la mancanza è il motore, per così dire, si vede come suo fenomeno nell'azione, in questa azione psichica che è un'istituzione di relazioni, un religare, una religio appunto nel senso antropologico fondamentale, che siamo e agiamo in quanto mancanti nella misura in cui stiamo in certi rapporti. Facciamo un passo in avanti, in avanti insomma, più al fondo. Ed è appunto la seconda questione che vorrei porre ai nostri amici. Una delle modalità più interessanti in cui gli esseri umani avvertono questa loro mancanza, vivendola, come dire, in maniera affettiva, è l'esperienza del desiderio. Quella in cui più di ogni altra il limite della vita, dell'esistere, dello stare al mondo, sembra essere anche un confine, non semplicemente qualche cosa che delimiti, che circoscriva, ma qualche cosa che è una giuntura, che mette in relazione con ciò che, con cui siamo confinanti, o siamo prossimi, o siamo contigui. Quindi segno di una presenza che attrae e attende. E la mancanza si compie non colmandosi o risolvendosi, ma fuoriuscendo continuamente da sé, eccedendosi. Perché, verrebbe da dire, la sua misura è indefinita o infinita. Nella filosofia tardo-novecentesca, fino a quella dei nostri giorni, insomma, nella filosofia, insomma, non che ci sia una sola filosofia, ma in una delle tendenze più significative, sembra affermarsi una concezione della natura umana nei termini di una assoluta immanenza, in cui la tensione dialettica tra il finito e l'infinito viene tradotta nelle variazioni di potenza di una natura che è orizzonti a sé stessa. Ricordo quello che diceva Deleuze, che bisogna appunto staccare il desiderio dalla mancanza. Cioè il desiderio non sarebbe più il segno di chi mi manca, ma un particolare bilanciamento di forze psicofisiche della natura che in certi momenti, nel quale bilanciamento, in certi momenti alcuni fattori sarebbero più o meno sbilanciati rispetto agli altri. O anche, se si vuole, una elaborazione culturale di questa impossibilità. Insomma, una sorta di elaborazione del lutto, visto che, come diceva Heidegger, non è possibile una risposta sull'origine, che pure corrisponde ad una domanda che abbiamo, bisogna rendere ragione di questa impossibilità, sublimarla, giustificarla, elaborarla. Ma la domanda che volevo fargli è questa. Viene da chiedersi però se il desiderio, come altre esperienze fondamentali dell'io, per esempio l'amore, o la tristezza, la gioia, la paura, o anche la più quotidiana inquietudine, siano decifrabili e risolvibili adeguatamente come semplici passioni dell'anima o del cervello, o non siano anche una possibilità di fare esperienza della realtà come irriducibile, quindi più grande delle nostre reazioni, e insieme come scoperta di un nostro radicale bisogno. Insomma, possiamo leggere la mancanza come un segno? E soprattutto di che cosa essa alla fine sarebbe segno? Carlo Sì, è una domanda centrale. Io vi chiedo di seguirmi in questa esemplificazione, che vuole essere di grande considerazione naturalmente, perché vorrei affrontare proprio il desiderio della risposta alla domanda che qui ci riunisce, che potrei formulare così, come già è stata formulata, che cosa ci manca? E allora dicevo, io prendo un esempio che è noto a tutti noi, e rispondo con i due, ma ce n'è un terzo poi, con i due protagonisti di questa scena, che sono un mercante padre di Francesco e Francesco. Come suona la domanda che cosa ci manca alle orecchie del mercante padre di Francesco? Badate come suona alle orecchie, credo, di ognuno. Suona così. Che cosa c'è di poco? Che cosa c'è di poco? E quindi il desiderio, il desiderio di quello che ci manca, perché quello che abbiamo è poco, ci vuole di più. Tutta la vita e tutta l'esperienza antropologica dell'uomo, certo non si è fermata ai primi ciottoli che ricordava Eugenio Mazzarella, no? Siamo andati sulla luna, come si dice, no? Che cosa c'è di poco? In questo atteggiamento, in questo modo di declinare la domanda che è così umanamente diffuso, che è la storia antropologica dell'umanità alla quale tutti partecipiamo, modo, come dire, salutare di rispondere, no? Trovare salvezza nella consapevolezza che c'è poco, che dovremmo avere di più, che dovremmo fare di più, in principio è l'azione. Ecco, in questo modo di vedere l'atteggiamento del padre di Francesco, e oso dire di ognuno di noi, in quanto tutti siamo anche figli del padre di Francesco, del commercio universale che si è instaurato sulla terra da migliaia migliaia di anni, ecco, tutti noi ci sentiamo in credito, eh, verso la vita, in credito. La vita ci deve venire incontro per bacco. Difatti il secondo testo che volevo ricordare, adesso lo dico così molto di sfuggita, è la genealogia della morale di Nietzsche, del 1887, dove non è la morte il tema del debito, dell'essere in debito, del sentirsi in debito dell'uomo, ma è la sofferenza. Sono i due grandi temi teologici, d'altra parte, no? La morte e la sofferenza, le due cose di fronte alle quali come rispondi, ma... Nietzsche sottolinea appunto l'insensatezza della sofferenza nella vita, il bisogno di spiegarla inventandosi la colpa. Tutto un giro di pensieri molto complesso, molto interessante. Ma qui quello che interessa a me è che nell'atteggiamento in cui la risposta al che cosa ci manca è che cosa è poco, eh, con che cosa riempiamo i buchi e quindi in quale credito siamo verso la vita, in quale pretesa di felicità, pensate gli Stati Uniti, no? La costituzione del popolo degli Stati Uniti, il diritto alla felicità, il diritto alla felicità, la civiltà è il diritto alla felicità, furbi e torbi. Il padre, il figlio, come declina il figlio la questione? E di fronte alla domanda che cosa ci manca, non si chiede che cosa c'è di poco. E qui l'inaudita grandezza di questa persona, straordinaria, fraintesa poi nella storia. Vi consiglio un bel libro di Antonio Attisani, che ha studiato il teatro di Francesco, giullare di Dio, smettendo tutte le letture da Santino, no? Tutte le letture buoniste, no? Francesco non era affatto buono, era molto più che buono, era pericoloso, era una rivoluzione incarnata del cristianesimo. Come risponde Francesco? Non risponde che cosa ci manca nel senso di che cosa abbiamo di poco. Dice, non lo dice, ce lo mostra, che è molto più forte che dirlo. Che cosa abbiamo di troppo? Che cosa c'è di troppo? E devo dire, questa è una declinazione molto forte della domanda che cosa ci manca, l'infinito, il non infinito. Ma più concretamente, che cosa c'è di troppo? Perché Francesco, tutti lo sappiamo, lo ricordiamo benissimo, no? Si spoglia nudo davanti al padre, davanti a tutti. Restituisce il troppo, perché solo così riesce a capire che cosa gli manca davvero. E dicevo c'è un terzo personaggio, consentitemi di evocarlo rapidamente, che è il Vescovo. O almeno a me l'hanno raccontata così, credo che sia andata proprio così. Che ovviamente, povero uomo, corre subito a coprire Francesco con il mantello. Gesto ambiguo, diceva bene Costantino Esposito, è felicemente ambigua la questione della... perché certo si può leggere questo simbolicamente, allegoricamente, come è stato fatto. La Chiesa, tutto sommato, si fa carico di Francesco, della sua povertà. Lo si può leggere in un altro modo, però, ed è stato letto anche in quest'altro modo. La Chiesa, come tutte le autorità pubbliche, come tutte le istituzioni, ha in orrore lo scandalo, è moralista, ha paura della povertà di Francesco. Vi ricordo che quando Francesco andò a Roma dal Papa con i suoi compagni per chiedere il riconoscimento della sua regola, venne ammonito, venne rimproverato. dalla curia perché si presentavano troppo sporchi, troppo laceri, ma che schifo, ma voi pensate di andare davanti al Papa così, ripulitevi un po'. E allora io vi chiedo cosa c'è di troppo qui? Abbiamo il coraggio di questa domanda? Cosa c'è di troppo nella vita di ognuno, naturalmente, eh? Cosa c'è di troppo nella vita di ognuno? Qui è evidente che siamo di fronte ad un'altra declinazione della questione della mancanza, una declinazione molto complicata, molto complessa, perché ecco l'essere in debito. Mentre il padre è in credito, il desiderio, come diceva molto bene Costantino Esposito, si possono richiamare qui tutti gli aspetti psicologici, antropologici, ma addirittura metafisici, come diceva giustamente Costantino Esposito, metafisici che non sono solo un fatto della mente umana, sono un fatto dell'esperienza universale, no? Dell'esperienza anche preumana, no? Sì, ma il fatto fondamentale è che l'essere umano è colui, e qui consentitemi un'altra immagine che ci è familiare, io le tratto con tutta l'umiltà possibile, vi assicuro, e anche qui la questione è come la mettiamo con i due alberi. Vi ricordo che Yahweh, dopo che Adamo e Deva ebbero gustato il frutto della conoscenza del bene e del male, cioè della conoscenza dell'azione buona e dell'azione non buona, intervenne certo per cacciarli dall'Eden, immagine biblica che già c'era nei Sumeri, è un'immagine antropologica fondamentale, sì perché avevano, come dire, infranto il divieto, ma aggiunge una cosa fondamentale che è di solito ricordata meno, dice per carità ma andiamoli via subito perché se Adamo allunga la manina lì vicino al centro dove sta l'albero della vita, allora non morirà più. È lì che comincia la morte. La morte comincia perché c'è un conflitto radicale originario tra la conoscenza e la vita. Diceva bene Eugenio Mazzarella, no? Però la cultura è la natura, se vogliamo metterla in termini più semplici, no? Perché l'uomo è un essere della dismisura, non della misura. O meglio, è un uomo della misura se per misura intendiamo l'esattezza, come diceva Heidegger, no? La sua cultura tecnica, direbbe Mazzarella, è una cultura che soprattutto si orienta verso l'esattezza del calcolo. Heidegger ha lavorato molto su questa questione. No, ma la dismisura è al di là di questo. La dismisura è appunto nella conoscenza stessa in quanto traduzione della vita nella conoscenza della vita, traduzione dell'origine in un discorso dell'origine. Non è subito evidente che il discorso dell'origine, questa dismisura, è a distanza dalla vita. È uscito dalla vita, è eccedente la vita, l'essere umano è l'essere della eccedenza. Naturalmente questo non significa che la conoscenza sia una cattiva cosa. Qui sono molto vicino a quello che diceva Mazzarella, cioè la conoscenza è l'uomo, non è che sia una cosa diversa. L'uomo è la sua cultura, è l'animale che ha cultura e che avendo cultura ha vita, non è la vita, ha vita. E che avendo la vita ha la morte, che l'animale ignora perché non ne ha conoscenza appunto, no? Allora ecco questa dismisura è ciò che davvero mette in luce il debito, ciò per cui la risposta del padre di Francesco è un cattivo infinito, direbbe Hegel. È un continuo a imbarcare enti su enti su enti, per usare la terminologia filosofica, no? Enti su enti su enti per tappare un buco che è nato col desiderio stesso, direbbe Costantino, molto bene, che è nato appunto con la sensazione che quello che abbiamo è troppo poco, non basta, non basta garantire che? Che saremo felici, che non soffriremo, che non moriremo. Ma noi non siamo felici, nel profondo. La conquista della felicità sta nel rifiutare il troppo, questo è il messaggio di Francesco, no? Di giullare di Dio, lui sì, che può ballare e cantare, perché lui ha recuperato a modo suo, attraverso la cultura ovviamente, ha recuperato la condizione dei gigli del campo, che non tessano e non filano, ha recuperato la condizione degli uccelli che non lavorano. Lui dice ai suoi fratelli appunto, ricordando queste immagini del Vangelo, perché vi preoccupate? Si dà modo anche agli uccellini di tirare sera, vorrete che non ci sarà modo anche per noi. Qui davvero allora il debito diventa un, come dire, una salvaguardia che consente di non allontanarsi troppo dall'albero della vita. Certo, noi siamo nei dintorni, poiché moriamo. Ma il problema della cultura, allora il problema della scienza, della tecnica, del sapere umano, da sempre, da sempre, non è quello di avere sempre di più per garantirsi ciò che non è garantibile, perché noi siamo gli esseri dell'eccedenza, noi siamo gli esseri della gettatezza. No, la vera saggezza, il vero insegnamento della povertà francescana è che ci vuole un limite, ci vuole una misura. L'essere è l'uomo finito perché la sua cultura è finita, ed è una grandiosa cosa la sua cultura. Se la sua cultura non dimentica il debito verso la vita, il debito verso la vita, detto in due parole, mi chiuso subito, chiedo scusa, il debito verso la vita è anzitutto il debito verso la vita di ognuno che lavora. Laddove c'è appropriazione della vita di colui che lavora bene. Ogni tecnica della produzione è diabolica, è diabolica. Vuole fare quello che Yahweh temeva, impadronirsi della vita, e nella misura in cui lo fa ottiene anche di impadronirsi della vita di coloro che lavorano, della vita individuata. È dal tempo dei babilonesi che si fa questo, eh? Che si lega la vita di ognuno allo scritto, alla registrazione, alla burocrazia della cultura, che è potentissima nell'aumentare il prodotto interno lordo, ma molto pericolosa nei confronti dell'esperienza vivente di coloro che poi di fatto incrementano il prodotto interno lordo. Quindi il debito originario dell'uomo verso la vita qui diventa debito specifico, economico, sociale e politico. Cosa ne pensate? E poi c'è un secondo debito più grande, del quale spesso ci dimentichiamo, ma adesso ormai siamo tutti un po' avvertiti, che non è nei confronti della cultura, nei confronti della singola vita del singolo lavoratore. E per lavoratore intendo l'uomo dei primordi, sino oggi, eh? Non solo quello dell'otto-novecento. No, c'è un debito nei confronti della vita del pianeta. C'è un esser predoni verso la vita del pianeta, l'unica che conosciamo, badate, l'unica che conosciamo. Ce ne saranno altre vite su innumerevoli pianeti di questo spettacolo infinito, incomprensibile, meraviglioso. Però noi conosciamo questo. E questa vita è limitata. noi siamo assegnati al credito, no? Al credito. Ogni anno la banca centrale instaura il credito. La cosa cominciò alla fine del Seicento con la banca d'Inghilterra, con l'otto per cento. Il che vuol dire che se tu mi presti cento, io ti devo restituire cento e otto. Giusto? Questo vuol dire che io devo produrre di più. Sempre di più e sempre di più e infinitamente di più. Perché il debito rilancia se stesso. La situazione della Grecia è solo l'ultimo esempio infelice di questa caratteristica dell'economia moderna, prodigiosa nel creare benessere, per carità. Non fraintendetemi, prodigiosa nel creare benessere. Pericolosissima e intimamente delittuosa nel minacciare la vita. Ecco allora questo equilibrio, no? Tra l'inevitabile mentalità del padre di Francesco. Certo ci manca sempre qualche cosa, ci sono dei poveri tra di noi e altro che c'è gente che sta morendo nel Mediterraneo e non solo lì. E quindi c'è una mancanza concreta che va riempita, ma non nell'ottica, ecco questo è il punto, la povertà di Francesco, non nell'ottica di produrre sempre di più, ma casomai di produrre meglio. Nella memoria incancellabile del debito e nella gioiosa comunità dei fratelli. Per riprendere il filo del discorso che ha impostato, va da sé che una volontà di immanenza, una volontà di tenersi e condursi in proprio nel mondo come autogoverno di sé. E il governo del mondo è certamente il mainstream, il fiume di fondo della modernità, dell'autocoscienza della modernità. Un mainstream che è stato possibile alla modernità grazie ai successi della tecnica. Ha un tentativo di surrogare del tutto la compensazione religiosa, cioè l'individuazione di un senso all'esperienza del venir meno saputo della vita a sé stessa, l'esperienza della morte, nel sentimento di un'appartenenza a qualcosa più grande di noi, di surrogare questa compensazione religiosa fondativa e istitutiva del senso del vivere umano con la compensazione tecnica, con un attivismo fabbrile di un'intelligenza dell'appartenenza alla natura che pensa di poter gestire ormai in proprio termini e condizioni di quell'appartenenza. Per la modernità sembra che non c'è più bisogno di alcuna fidatezza cosmologica di un uomo e mondo, al di là del polomus, della struttura conflittuale che è la struttura, non c'è bisogno né di una fidatezza cosmologica di un uomo e mondo e neanche che questa fidatezza si faccia magari dialogo personale di un arco dell'alleanza tra cielo e terra posto sulle nubi. In fondo per l'uomo moderno, per l'uomo contemporaneo, il diluvio per l'uomo della scienza e della tecnica è questione di pura meteorologia, con annessi e connessi, dalle previsioni del tempo all'emergenza clima. Grazie alla tecnica la nostra natura di essere di mancanza pare di poter bastare a se stessa, può filare da sé il senso della sua azione senza bisogno di un'integrazione di senso divino-cosmologica, un bisogno di integrazione di senso che sarebbe figlio di un altro tempo, fondamentalmente di una consapevolezza, di una dipendenza della vita che l'azione certo gestisce, ma non è in grado di eliminare in radice. Però questo approccio del moderno, che sembra così moderno, non è niente di tantissimo moderno, mi permetto di dire così, cioè perché è un demone antico, non c'è niente di nuovo sotto il sole. È già il mito della torre di Babele, nel codice biblico, oppure nel codice dei tragici greci, l'altro grande codice della nostra cultura, lo sguardo gettato sull'ente più pericoloso di tutti, l'uomo che contrasta l'essere senza pietas del coro dei vecchi debbani nell'antigone. Insomma, la torre di Babele e il coro dell'antigone ci raccontano per tempo questa tensione fondamentalmente immaginaria della compensazione tecnica a saturare lo scarto tra sapere di sé e potere di sé dell'uomo, a saturare il sentimento di dipendenza dal tutto della compensazione religiosa. Detto in termini più formali, il venir meno nella iubris dell'azione della pietas della religio. Questa tensione immaginaria sembra vincente nel panorama concettuale e contemporaneo, perché ormai l'immaginazione produttiva di mezzi dell'uomo sembra avere con la tecnica tra le mani la soluzione. Soluzione che si riannuda fondamentalmente alla superbia del seppente che appena uscito dalle mani della creazione, in fondo consiglia all'uomo di far da sé. E' tentazione che oggi crede di avere dalla sua parte la potenza solutiva dell'artificio. credo però che questa pretesa ci consegna il perpetuum mobile di uno sfrenato attivismo contro di cui si eleva una protesta. E questa protesta non sta molto lontano da noi. Questa protesta sta nel cuore di ognuno che si fermi un momento e ascolta quel che gli manca non dovrebbe, se avesse ragione, il continuo d'affare in cui la vita nel suo riovinio si distrae da se stessa. Si distrae da una calma su cui non può mettere le mani e che tuttavia resta la sua nostalgia, la pienezza che dà radice alla sua indigenza. In fondo mi sembra il messaggio lustrale, purificatore, da uno sfrenarsi, dallo sfrenarsi dell'azione che non frena niente del nostro quintimo bisogno, del nostro desiderio che Luzzi ci dà, Mario Luzzi, nella lirica che dà il titolo al meeting di quest'anno. Di che mancanza è questa mancanza, cuore che ha un tratto ne si è pieno, di che rotta la diga, ti non detti sormerge, la piena della tua indigenza. Viene, forse viene da oltre te un richiamo che ora perché agonizzi non ascolti, ma c'è, ne costruisce forze e canto la musica perpetua, ritornerà, sii calmo. Credo che qui parli questo bisogno di una calma della vita come azione sensata e che quel debito non vada a credito dei processi di cui parlava così bene Carlosini, ma ci riporti a un altro senso del credito, al senso originario, che dà legittimità ad ogni credito nelle relazioni sociali. Il credere, dove nell'etimo della parola crede, se prendo un'etimologia di benveniste, crede è cuore. In fondo credere significa porre il proprio cuore su qualcosa o qualcuno che dà senso al mio da fare. Credo che il messaggio di Francesco sia un invito a credere in questo senso, in modo da depotenziare la pericolosità del suo tradursi in crediti di usura nelle relazioni nel mondo. Dunque debito e credito. È interessante. È interessante perché già nel suo primo intervento Sini e Mazzarella avevano accennato alla questione l'essere in debito e in colpa, usando appunto i famosi termini di Heidegger, nel senso che siamo gettati ma non sappiamo da chi e da dove. O Mazzarella, sempre nell'intervento precedente, quando parlava di un debito rimosso ed è ritornato alla grande nella seconda tornata delle loro risposte. Ed è interessante appunto vedere che anche questa parola, il debito e il contrapposto credito, sono come su un crinale. Sini parlava appunto, reinterpretando in maniera suggestiva la figura di Francesco D'Assisi, questo debito verso la vita e verso la vita del pianeta, che noi appunto c'è qualche cosa di essenziale. Anche questo è interessante. Francesco non pone come il padre la domanda che cos'è che ci manca, come possiamo fare per raggiungerlo sempre di più, incrementando appunto il credito, ma chiede che cosa abbiamo di troppo. Ma in fondo lui può chiedere che cosa abbiamo di troppo perché vive la mancanza come l'esperienza dell'essenziale. Infatti si di denuda per poter capire che cosa veramente manca. Perché quello che veramente manca è qualcosa di positivo, è una presenza. Ecco il crinale del debito, no? Che non può mai essere totalmente, diciamo, colmato, no? Perché agiamo, perché sappiamo, perché conosciamo, perché lavoriamo appunto il computo della cultura e tuttavia ogni volta è come un richiamo a ciò che veramente manca, che Mazzarella diceva come nei temi di una nostalgia che è come appunto il debito ultimo, il senso ultimo del debito rispetto ad uno sfrenato ottimismo. Ancora un giro. Questa struttura ontologica e antropologica della mancanza come segno, confine, motore della possibilità del vivere e anche ciò che permette, veniva già fuori, però vi invito a metterlo di più a fuoco, di stare nella trama del mondo, nel gioco del sociale, nelle forze della storia. Quindi non è semplicemente una questione psicologistica o emotivistica, ma sanamente metafisica e quindi politica e quindi sociale e quindi economica, cioè copre lo spettro intero del nostro stare al mondo. E a me sembra di poter dire che paradossalmente la consapevolezza, così come voi ne avete parlato, della mancanza può diventare possibilità di dialogo con l'altro, con il diverso. E che anzi questa mancanza sta all'interno come una dimensione nascosta di ogni appartenenza, di ogni identità personale e sociale, perché la nostra identità non è mai una mera autoaffermazione volontaristica o sfrenatamente attivistica, faustiana, ma nel porci nel mondo, nel dirci, nel dire chi siamo, a chi apparteniamo, che cosa perseguiamo, c'è sempre in qualche maniera l'ombra di qualche cosa che ci manca, appunto perché ogni identità non è mai un nostro possesso, ma è qualche cosa che diventiamo, che guadagniamo, di cui siamo appunto continuamente in debito. Mentre, già appunto se ne accennava, mi sembra che la tentazione di ogni ideologia, che sia economica, sociopolitica, finanziaria, è sempre quello di presumere, di annullare quella mancanza. Allora, secondo voi in che modo questa consapevolezza di questo debito, di questa mancanza come debito, vista o non vista, può determinare anche il nostro stare come protagonisti nella storia sociale del mondo? Carlo. E la parola chiave che ha detto Costantino Esposito è possesso, no? Possesso. E questa è la trama sociale, socio-economica, sociopolitica, psicologica, morale naturalmente. Ed è in questa chiave, in questa luce, secondo me, che dobbiamo leggere l'apologo francescano, di Francesco, voglio dire. Perché Francesco restituisce, no? Restituisce al Padre quello che è del Padre, con un atto profondamente cristiano, no? Date a Cesare quel che è di Cesare. Ti ridò tutto quello che è tuo? Perché gli ridà tutto quello che... Come leggere questo gesto? Ma bisogna leggerlo, io credo, almeno leggiamolo così per intenderci fra noi, è solo un apologo quello che sto usando. Lo possiamo leggere ricordandoci della vita precedente di Francesco. Francesco, figlio di Bernardoni, insomma, è un giovanotto brillante, anche abbastanza scappestrato, dicono, no? Che ne ha fatte un po' di tutte. Inquietto, irrequietto, che poi però scopre la chiesetta di Roccata e l'immagine di Gesù, no? Resta a contemplarla, estasiato. Che cosa restituisce? Ma non tanto ciò che ha avuto come dono dal Padre, che avrebbe avuto tutto, come dire, non c'era niente di male. Cosa c'era di male? No, la restituzione ha una ragione precisa. Letta come vorrei ora con voi leggerla. Lui non è proprietario di quelle cose, non perché le ha ricevute dal Padre, perché tutto quello che abbiamo sempre lo riceviamo dal Padre, no? Mettendo padre tra virgolette, ma dall'altro, eh? Diceva giustamente l'esposito. Lui restituisce perché di quelle cose non ha saputo fare nulla. E questo è il grande insegnamento della povertà francescana, che non è una povertà che impedisce di possedere, nel senso dell'usare. A cominciare dalla vita, no? La vita, ci è stata data la vita, ecco. Certo, ne abbiamo una proprietà transitoria, ne abbiamo un commodato d'uso. Ma che uso ne facciamo? Dove ha portato quelle vesti Francesco? È di questo che prova vergogna. È di questo che non può accettare la proprietà, che non ha proprietà, non sono sue, se ne spoglia perché sono di troppo. Ma allora questo, se mi consentite, si può benissimo tradurre, capovolgere, attribuire a ognuno di noi di chi è questa penna, di chi sono questi fogli, di chi sono io, ex professore in pensione. Allora, vedete, la questione della proprietà diventa lancinante, perché non è che venga inibita la proprietà, non è la questione di un collettivismo poco concreto, spesso fallimentare in tutte le sperimentazioni che ha avuto pure nella storia. Non è tanto questo, secondo me, l'insegnamento, è più alto l'insegnamento di Francesco, è più alto, perché non combatte la proprietà per cancellare la proprietà, ma trasforma, trasferisce la proprietà nell'uso che ne farai. Tu hai diritto alla proprietà della tua vita e hai diritto alla proprietà delle cose che nella tua vita sono prodotte da te, da altri che te le hanno concesse, donate, date, vendute, a una sola condizione. E la condizione è l'uso che ne farai. Che cosa farai germogliare da questa proprietà? Perché la proprietà, nelle sue conseguenze, non ti appartiene. Appartiene da quegli stessi altri da cui l'hai ricevuta. Tu la devi traghettare. Ho molti soldi in banca. Non sto facendo un riferimento a me stesso, purtroppo. Ho molti soldi in banca. Cosa ne faccio? Cosa ne fai? Non hai diritto a quella proprietà. Se essa si ferma la tua vita, la vita dei tuoi figli, dei tuoi cari, delle tue... Questo è il padre, eh? Di Francesco. Quanti beni abbiamo? Sono pochi, ragazzi. Andate in Francia, voleva mandarlo in Francia a mercanteggiare, perché dobbiamo avere di più. Perché? Perché avere di più? Per farne che? Se ciò non produce una restituzione del dono, una riapertura del dono, non una riapertura del credito, ma una riapertura del debito. La società europea, fondata sulla riapertura del credito, credito che produce altro credito, bisognerà sempre dare altro perché torni indietro di più. Non la riapertura di questo credito e di questo debito, la riapertura del debito per la restituzione. perché ciò che è stato dato a me venga restituito possibilmente un po' meglio di come l'ho ricevuto, che è una delle grandi parabole di Gesù, no? Vi parla un uomo che non crede. Esattamente, si tratta di farlo fruttare. Io ho diritto alla mia proprietà perché la faccio fruttare per gli altri perché la restituisco più feconda, più libera, più diffusa, più giusta e quindi in un certo senso più povera, più povera di possesso. Ecco, la vera sfida alla quale l'Europa mi sembra inadeguatissima così come la conosciamo oggi, la sfida vera è la proprietà senza possesso, non l'abolizione della proprietà, che abbiamo visto è un mito. Non funziona. Il cuore dell'uomo non è educato a tanto, quindi non tanto l'abolizione della proprietà, ma l'abolizione del possesso della proprietà. E se ci pensate questo non è semplice, eh? Perché questo vuol dire che tutte le banconote che ognuno di noi ora ha in tasca non sono sue. Gli appartengono per quel tanto che fruttano e fruttano per quel tanto che circolano. Nessuna accumulazione, nessun di più, di più, di più, nessun mio, mio, mio. Ma l'apertura del credito vero che restituisce il debito vero, sì che il capitale finanziario, quello di cui parla così bene Mars nel terzo libro, eh? Andatevi a rileggere il terzo libro del capitale e resterete stupefatti della sua attualità, della sua puntuale attualità. Quindi non il capitale finanziario in quanto in mani private incentiva il mercato mondiale, cioè di più, sempre di più, sempre di più. Deserto, sempre più deserto, sempre più deserto, diceva Nietzsche, no? No, il capitale finanziario come ciò che mi appartiene se lo uso, mi appartiene se lo metto in circolo, mi appartiene se io, come dire, ne faccio dono alla comunità, che peraltro me l'ha data, da cui l'ho ricevuto. Un capitale finanziario a termine, ci stanno pensando gli economisti, eh? Una morte della banconota. E d'altronde, sapete, se noi moriamo, bisogna che muoia anche lei, eh? Sennò diventa il nostro padrone, come sta diventando. E se Adamo allunga la manina e avendo conosciuto la conoscenza, il bene e il male, si appropria anche della vita. E già, questa è una metafora che va benissimo per il capitale finanziario dei nostri giorni, no? Appropriarsi della vita. Con il disastro che la vita è finita, prima o poi è una catastrofe. Ma al di là di queste visioni escatologiche, resta il fatto che la banconota che hai nella tua, è come il cibo, scade, capisci? Scade. Perché tu la devi usare nel suo concetto, il suo concetto che deve circolare e favorire l'economia di tutti, l'economia generale, non l'accumulazione privata e particolare. Ecco, finirò con un'immagine kantiana. Diceva Kant, quando si va in giro a dire di queste cose, che il capitale finanziario deve essere considerato a termine, proprietà provvisoria come la vita di tutti, proprietà il cui possesso è legittimo se è usato, nell'interesse di tutti, venendo dal lavoro di tutti, quando si va in giro a dire di queste cose, diceva il vecchio Kant, bisogna avere dietro le spalle un reggimento di fucilieri. Ahimè, noi non ce l'abbiamo. Io riprenderei con un'autorevolezza che non è mia, la politicità dell'apologo francescano su cui Carlos Sini ha richiamato la nostra attenzione, perché penso che una risposta alle questioni che ci ha posto Costantino sia possibile trovarla nell'attualizzazione politica dell'apologo francescano che Francesco ha recentemente fatto con l'enciclica Laudato Si, in un mondo di una terza guerra mondiale a pezzi, combattuto dappertutto, come egli ha avuto il coraggio di dire, mentre molti magari nascondono la testa sotto la sabbia, richiamandoci alla povertà necessaria dell'uomo. Questa povertà necessaria dell'uomo è bisogno nativo di condivisione, credo che questo sia il messaggio dell'enciclica, bisogno degli altri e con gli altri di condividere un pane che comuni i beni del mondo, le cose, le relazioni, le azioni in cui ci sosteniamo e nessuno da solo. Insomma, quello di Francesco è una ripresa dell'apologo francescano nella chiave tutta contemporanea di un discorso sui fondamentali dell'umanità necessaria oggi. Un'enciclica che non è solo, basta darci una scorsa veloce per intendere che non è un discorso solo di ecologia della natura, ma un complessivo discorso di ecologia umana a cui è chiamato un uomo che abita il mondo sotto i giochi della guida mercatoria e tecnocratica dell'economia finanziarizzata e della tecnica. Come sostiene Francesco, nessuna ecologia della natura che si riduca a soluzioni tecniche a problemi causati da un uso distorto della tecnica caverà un ragno dal buco, rischia di essere un circolo vizioso o comunque ha reali possibilità di successo. Si finirebbe in un cattivo infinito della soluzione ai problemi che noi stessi creiamo a noi stessi. Abbiamo bisogno di una più complessiva ecologia dello spirito, cioè di una conversione, ma proprio nel senso del voltare del modo in cui l'uomo poggia gli occhi sul mondo e su se stesso. Certo, il modello di Francesco è il modello di quella conversione che si realizza nel gioco di sguardi tra Cristo e quelli che incontra, a cominciare Andrea e Giacomo. Francesco è stato puntuale, invitando a posare sull'uomo lo sguardo su che vi posso Cristo, scrive puntualmente che con delle dottrine, anche con le nostre analisi, se volete, senza qualche momento interiore che dà impulso, motiva e incoraggia e dà senza all'azione personale e comunitaria, non sarà possibile impegnarsi in cose grandi, in un dinamismo di cambiamento duraturo che anche una conversione comunitaria. Si sia credenti o no, credo che questo richiamo a essere amministratori responsabili, cioè a risolvere, diciamo così, evangelicamente il dilemma possesso proprietà di cui ha parlato Carlo, insomma, come dire, è un richiamo ineludibile. A meno che non si sia accecati da interessi o ideologie, da una partecipazione reale e per tanti poi in effetti solo fittizia marginale, a una signoria sulla terra che oggi veste i panni di un'economia e di una finanza che piega ai suoi fini la tecnica, che in alcuni tratti ormai è un fiume che trascina con sì, chi ha aperto le diche pensava di poterle richiudere. Anche perché poi a pagare l'usura che ne viene alla casa comune, ambiente, società futuro, sono sempre più poveri e in definitiva molti, troppi, rispetto a quanti siedono nei consessi del potere del mondo, nella prima cerchia che il potere accudisce e che in effetti accudisce al potere non come servizio ai fratelli, all'universale fraternità umana, ma come autotutela dei propri privilegi. È difficile dire che questa parresia di Francesco, che è di una semplicità esemplare, non sia una parresia necessaria, dove l'uomo è invitato a vivere con Dio, ma in realtà anche ogni uomo di buona volontà è invitato a vivere il cuore del messaggio francescano, tra virgolette, che c'è. Cioè, a vivere il bisogno di relazione con gli uomini e con le cose. Ci mette davanti, questa enciclica ci mette davanti all'ovvietà della verità. Se si vuole, qui diciamo così, gigioneggio un po' con un titolo della Arendt sulla banalità del male rispetto a la scia. In realtà, per il cuore che sa vedere dell'uomo, il bene ha la banalità dell'evidenza. C'è una banalità del vero, del bene, a cui è difficile dire di no se non abbiamo sugli occhi occhiali interessati. In fondo, l'apologo francescano e la sua politicità che Francesca ha ripreso chiama il cuore dell'uomo a questa banalità del bene, alla bellezza disarmata che ci prende. e alla non banalità di farlo, perché il punto fondamentale non è la banalità del bene che un'intelligenza che capisce, riconosce. Il punto fondamentale è il fatto assolutamente non banale di farlo il bene, non solamente dirlo, ma di farlo. E credo che in Francesco ci sia l'apologo necessario a quello che dovremmo fare. avevo già comunicato ai nostri due amici che non avrei fatto la quarta domanda, però dopo quello che hanno detto la faccio. La faccio telegrafica e proprio come battuta di sintesi finale ad entrambi. insomma se noi pensiamo a cos'è l'esperienza della mancanza è una dipendenza, dipendiamo da qualche cosa che non abbiamo. Eppure mi sembra di poter dire che questo non sia il contrario della libertà, ma sia come la chiave della libertà. Carlosini. Beh, io qui appunto tornerei al nostro Nietzsche che abbiamo in comune quantomeno con Eugenio ma anche con te credo, no? La questione è quella finale del Faust Goethe poi che era un grande autore di Nietzsche. Siamo disposti di dire di sì? Siamo disposti a dire di sì alla vita? Questo è il punto. Siamo disposti a dire di sì alla vita vuol dire riconoscere un debito infinito se volete anche una colpa infinita l'uomo religioso la sente più così ma va benissimo dire di sì alla vita accettare la vita accettare che quello che è stato sia stato come è stato e che questo diventi la nostra libertà futura cioè la libertà di volerci come siamo accaduti senza averlo deciso accettare quindi il nostro destino e sostanzialmente farne qualcosa cioè l'accettazione sta nel dire con tutti i limiti della vita umana con tutti i limiti della mia vita con tutti i limiti della mia persona certamente un moscerino nell'universo ho la libertà di accettarla come compito diceva aver da essere diceva Eugenio e questa è la nostra grande occasione la grande occasione della vita di ognuno in ogni istante di ogni azione della vita di ognuno di farne qualche cosa di questa accettazione della morte del dolore di tutte le cose del nulla del non senso della sofferenza è una grande occasione di libertà libertà non nel senso che posso fare quello che voglio ma posso fare quello che mi è dato di fare ricordandoci delle parole fondamentali per me fondamentali non come voglio io ma come vuoi tu dovendo chiudere una battuta perché il tempo è corso veloce e questo ci dice quanto di troppo abbiamo di cui dobbiamo saper ringraziare cioè il tempo richiamerei una frase in un breve frammento di Maria Zambrano che in un breve frammento sull'amore in un ragionamento sulla deriva immanentistica della soggettività moderna scrive che alla fine mano a mano che l'uomo ha creduto che il suo essere consistesse in un altro che nella coscienza l'amore si è andato trovando senza spazio vitale come un uccello soffocato nel vuoto di una libertà negativa credo che il dramma della modernità della modernità che sul piano storico epocale chiaramente qui viene letta come enfasi sulla deriva egoistica della pur necessaria struttura egoica dell'individualità sulla pur necessaria struttura egoica dell'esistenza in realtà sia un affidarsi a una libertà che dimentica di essere non solo libertà di sé progetto privato progetto individuale ma la libertà è anche un progetto sociale e per certi aspetti un progetto complessivo della natura vorrei qui riprendere la definizione di Galen noi siamo sempre liberi siamo davvero liberi insieme all'altro insieme agli altri insieme alla natura alla storia alle persone con cui viviamo il nostro liberarci nel mondo il nostro liberarci per noi stessi per il nostro desiderio chiuderei rispondendo simmetricamente a quello che diceva Carlo poco fa è solo in fondo un filo per trovare una risposta alla nostra libertà noi ci chiediamo di chi sono ma alla fine di chi sono a chi appartengo tendenzialmente diciamo in una deriva egoica penso di appartenere a me stesso ma questo è solo un lato del foglio dell'essere quello che sono chi sono la risposta a chi sono è individuare il chi da qui sono il qualcuno da cui vengo il qualcuno per cui vivo in fondo è cifrato in un'esperienza di Giussani che ne fa cifra religiosa e teologica io sono tu che mi fai e ognuno di noi sa che il meglio di sé è quando ha davanti qualcuno che fa quello che gli è e forse questa è la libertà come si suol dire in questi casi il vostro applauso ha detto più di quello che potrei dire io ma provo a dire quello che mi sembra il vostro applauso abbia suggerito e cioè il guadagno di questa oretta che abbiamo passato insieme di lavoro e lo direi così ciò che mi ha colpito sentendo Carlo Sini da Gino Mazzarella è la coscienza che la mancanza è innanzitutto una sorgente non un deficit l'hanno detto in tanti modi e il negativo è l'essere in debito no vale a dire che abbiamo ricevuto abbiamo una provenienza proveniamo abbiamo ricevuto quel che siamo no non ci siamo autoposti c'è una sorta di passività originaria che è il debito che con tutte le nostre strategie non possiamo radere non possiamo annullare e che inceppa il meccanismo del desiderio quando il desiderio significhi ancora un po' ancora di più ancora di più si dicevano è libera il desiderio libera il bisogno che non è nell'ottica di un'accumulazione di cose di idee di strategie di proprietà sempre più grandi ma è ogni volta ricapire che si è andati ma il mancare non è soltanto un assorgente è anche un dono cioè anzi quanto più doniamo che appunto come si è ben capito non è innanzitutto un'esortazione alla generosità ma è un movimento del nostro essere è una dinamica ontologica quanto più doniamo o traffichiamo il talento o usiamo ciò di cui siamo in debito e perciò ce ne riappropriamo tanto più appunto siamo quindi è una mancanza questa volta che non è un punto cieco ma è una prospettiva è come si è detto un compito e permettetemi di proprio in conclusione di sottolineare mi ha molto colpito che la parola finale di entrambi è questo strano pronome che è tu non voglio non come voglio io ma come vuoi tu oppure io sono tu che mi fai no? che sta appunto a dire che questa come le chiamava Carlosini memoria incancellabile del debito e chiede di essere riconosciuta come un rapporto personale e chiede di espandersi come un rapporto personale ed è appunto quello che con Maria Zambrano Eugenio chiamava un amore insieme alla coscienza perché se la coscienza è senza l'amore perdi entrambi o quello che Carlosini chiamava sempre parlando del grande Francesco che la possibilità di vivere la memoria incancellabile del debito è la gioiosa comunità dei fratelli grazie Carlosini grazie a Genova Zarella grazie a tutti voi alla prossima bello sono molto contento sono molto contento grazie a tutti